allora signori è scattata l'ora solare buongiorno bentrovati oggi siamo particolarmente fieri ed orgogliosi di presentarvi storie che nascono da sogni da sogni che si inseguono no non permettere mai a nessuno di cancellare i tuoi sogni tranne quando è la vita ad andare a volte contro i tuoi sogni e poi scopri nel tempo anche per tuo talento non ci sono dubbi che quell'andare contro è in realtà la strada aperta per un sogno ancora più grande sono molto contenta perché infatti gli ho detto scusami se ti ho dato subito del tu di presentarvi un attore splendido attore bravo 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 ma tanto bravo parecchio bravo Gian Maria Martini che è qui con noi grazie e che ringrazio perché vorrei dire ha accettato subito in corsa già che egli è tra i volti del film race for glory audi contro la lancia adesso contro la lancia l'ho detta audi versus lancia con riccardo scamarcio per la regia di stefano mordini ed è un film appassionante meraviglioso bellissimo per chi quel mondiale se lo ricorda chi era un bambino e non se lo ricorda ma si è ritrovato dentro a questo film come Gian Maria l'ho fatto anche non solo perché bravissimo attore ma perché in realtà e qui parliamo del primo sogno della tua vita tu sei stato sei resti e rimani anche un un eccellente pilota una volta in serbito corridore automobilistico quale preferisci pilota pilota allora inizi quando a correre da 14 anni per caso come sempre perché io non avevo non avevo questa passione tra l'altro nella mia famiglia è l'unica persona che guidava con un certo sprint era mia madre è tuttora mio padre guida come un tassista in pensione quindi nella mia famiglia non c'è mai stata un'attenzione particolare però questo sia la guida questo sono io sì formulare no formulare niente ho un cugino che prova ogni settimana lui va in questa pista vicino a trieste in slovenia con un kart e un giorno io vado con lui suo padre mio zio è un appassionato di macchine giro faccio qua cinque sei giri mi piace tantissimo scendo e dico ma io voglio fare il pilota mettete un asterisco sul guardo scendo io voglio fare il pilota mettete un asterisco perché tornerà nella sua vita però andiamo avanti e mio padre no mio padre dice ma cosa sta dicendo però mio zio dice guarda che ha girato più veloce di c'è di giusva anche mio cugino cioè non è tanto normale sta cosa forse il caso di farlo correre non avendo mai fatto mai zero 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 e da lì niente ossessionato i miei mi hanno comprato il kart dopo un mese e mezzo correvo dopo un mese e mezzo correvi e c'era anche già maria quella innanzitutto tu hai un'attitudine a vincere nella vita è una un'attitudine che ti insegue in tutte le cose che fai hai dimostrato subito talento bravura c'è anche quel sentirsi no io sono il centro del mondo io storio è l'età è la bravura è sentire di fare qualcosa che era dentro di te quindi con eccellenti risultati che a un certo punto conosce un fermo se a un certo punto io comincio a farlo come lavoro quindi il sogno si sta proprio realizzando anche se il mio punto d'arrivo era chiaramente la formula 1 perché la formula 1 perché corre in pista è sempre il gol finale è un giorno infrasettimanale tra l'altro io avevo lasciato la scuola stavo provando materiali telaio vabbè cose tecniche bravo anche il grande pilota e anche collaudatore no si esatto infatti lavorare collaudando e non è che quando collaudi vai piano comunque e niente purtroppo ha cominciato a piovere improvvisamente eravamo in quattro in pista tutti vicini e siamo finiti tutti dritti a fine rettilineo uno sull'altro io mi sono rotto ulna e radio in quattro punti un pezzetto si è proprio frantumato quindi mi hanno fatto dei trapianti ossei un altro ragazzo si è rotto la gamba in 24 25 punti è stato proprio un mezzo disastro e da lì e da lì cambia tutto perché facendo la breve per un anno in modo intelligente se i medici che i miei genitori mi nascondono un po il fatto che non sarà tanto probabile che tornerò a correre quindi è comunque il primo anno sofferenze fisiche tremende mentali perché dovevo stare a casa io che non riesco a star fermo neanche un secondo quindi è stato veramente difficile in 19 e mezzo neanche 20 e quindi va all'inizio appunto vi spero sai quelle cose le dicevano tornerò più forte di prima si vedrà e poi un certo punto si capisce cioè capisco che c'è qualcosa che non va vado da costa che era il chirurgo del moto mondiale uno che ha messo in piedi michael duan capirossi quindi uno che ne ha messi in piedi tanti che avevano grossi problemi lui guarda tutto l'incartamento facciamo questa visita e mi dice non tornerai più a farlo come lavoro potrei farlo come hobby se vuoi hobby una parola che oppure oppure un giorno verrai chiamato come attore e pilota in un film importantissimo però anche questa è una storia successiva a 19 anni già maria quando tutto il mondo e tutta la vita è davanti a te quando ti capita una cosa del genere c'è quel c'è quel crollo che ti fa se ti fa sentire che tutto sia finito è paradossale perché però in quel momento tui sono i tuoi 19 anni non sono uno da fuori che ti dica cose sagge come come hai reagito cioè esattamente come hai detto te era finito avevo 20 anni 21 anni avevo un passato ma non avevo un futuro non avevo un presente non mi interessava niente a scuola andavo malissimo non ho mai non mi sono mai interessato a nient'altro che non fosse automobilismo da 14 anni in poi per me era tutto tutta la vita quindi ero completamente perso fatto l'università ho cambiato tre corsi in quattro anni però non c'era non c'era niente che mi spingesse quindi ero se io mi definivo perso un periodo scuro oscuro un periodo oscuro e siccome gli amici servono a questo ha anche involontariamente a darti una mano dico involontariamente nel senso che tutti noi vorremmo avere la bacchetta magica no c'è una persona la quale noi dobbiamo molto credo fosse un'amica giusto un'amica che dice senti vieni a teatro con me stasera no che danno sirano de bergerac e allora pubblicità ve lo raccontiamo tra un attimo io lo so lo sappiamo tutti perché lo apprezziamo e lo amiamo tanto ma io so che cosa successe quella volta in quel teatro ve lo raccontiamo tra un istante i sogni ti inseguono allora sono benissimo allora gianmaria martini proprio lui che viene a passare qualche minuto del suo tempo con l'ora solare attore attori di teatro perché tu sei molto 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 teatro poi cinema televisione ti hanno giustamente sei bravo bravissimo e tanno merito tuo anzi colpa tua allora passato da grande grande talento e grande pilota automobilistico incidente fine di tutto dal punto di vista agonistico io farò questo nella vita e una sera vai a vedere quel capolavoro che è il sirano de bergerac che che è il capolavoro e sei tu al buio in teatro con tanti altri e lui gli attori stanno sul palcoscenico che succede succede isabella tra l'altro è l'amica grazie isabella grazie succede che io guardo l'attore e penso ma lui può vivere altre vite può vivere altri tempi e intravedo un'altra possibilità di fuga la realtà perché io quando correvo per me quella era una fuga da realtà ho sempre cercato qualcosa che mi portasse fuori da tra virgolette la noia o la monotonia della vita che poi in realtà è il mio grande difetto anche perché io per esempio non riesco a star mai tranquillo non riesco a rilassarmi non riesco a fare una passeggiata sono sempre alla ricerca di qualcosa in moto perpetuo si pure troppo però meglio troppo che troppo troppo poco e quindi dico ma questa può essere una cosa geniale cioè questo può vivere altre cose allora il giorno dopo chiamo tutti i teatri di trieste ce n'è uno che ha un corso e il giorno dopo mi presenta questo corso è un po come l'asterisco che ho messo sulla tua prima corsa in macchina perché tuo cugino ti ha portato cioè io voglio fare questo no sì sì sono uscito ho detto farò l'attore voglio fare questo allora di corso in corso tu te ne arrivi allo stabile di genova giusto esatto che la carriera di attore a quel punto tu capisci essere la tu puoi essere un sacco di persone che non sei che diventi in quel momento no quando sei arrivato per la prima volta sul palcoscenico già maria la prima volta intendo dire primo ruolo vero vero nome in cartellone ok come ti sei sentito ma io in realtà non mi sono sentito diverso da quando facevo l'accademia nel senso che durante l'accademia io ormai sono ormai comunque la tecnica va molto sviluppata però mi sentivo già un attore nel senso certo poi chiaramente avendo riscontri il pubblico le cose tra virgolette anche un po di fama sì certo quello che si però non mi ha cambiato così non ti è cambiato significa averlo nel sangue ti do questa notizia ufficiale significa essere calciatori talmente bravi che alla fine era un bambino a cui bisognava solo mettere gli scarpini e quello diceva ma io gioco a calcio sì poi riempio gli stati ma gioco a calcio ma infatti io ho lavorato a siracusa al teatro greco davanti a 7 mila persone per me farlo davanti a 50 o davanti a 7 mila so che sembra un no guarda si chiama essere talentuosi e bravi ti do sta notizia da pubblico io sono quella che sta a siracusa o davanti casa davanti alla tv ad applaudirti allora poi sempre a genova perché lui è l'uomo delle scintille sapete come si accende un motore no ed è scintilla a genova scocco una nuova scintilla sei a messa e ascolti si chiama fra francesco cavallini il tuo frate si no non sono a messa in realtà non sei messa quasi quasi nel senso che non vorrei essere a messa nel senso che io tu non vorresti mai essere nei posti dove sei e dove la cosa cambia la tua vita ok sto preparando prometeo un personaggio di una difficoltà incredibile esatto e a un certo punto penso ma qual è una figura che potrebbe ispirarmi e lo collego immediatamente a cristo il sacrificio di prometeo quello di cristo a un certo punto vado in una chiesa e sperando che non ci sia nessuno perché volevo vedere delle immagini il crocifisso trovare delle ispirazioni non so qualcosa e vedo che sta cominciando una messa io non sono praticante per tanti anni non sono mai andato a messa ho fatto la comunione poi non ho fatto neanche la crisi ma perché non ero sicuro di farla quindi sono molto ligio riguardo le mie idee quindi comincio questo messo di come no vabbè allora tornerò poi c'è qualcosa che mi trattiene aspetto un atto un attimo arriva l'omelia e questo io non sapevo ancora che chiamasse francesco tra l'altro uno dei miei nomi preferiti comincia a fare questo melia e io rimango estasiato cioè mi arriva esattamente in un linguaggio semplice ma pieno di di vibrazione di energia di credo mi arriva questa cosa e di qualche personaggio che persona che carisma che a quest'uomo e lo aspetto come un fan fuori si lo aspetto e gli dico guarda io ti devo ringraziare perché appunto non sono un praticante però mi ha illuminato la cosa che hai fatto e da lì comincia il rapporto con francesco le meditazioni sul vangelo di marco esatto io ho sempre fatto training autogeni fin da quando ero piccolo quando correvo in kart e poi in formula per riuscire a gestire anche la parte mentale stress fatto yoga e un certo punto con francesco un giorno io torno in quella chiesa mi inginocchio davanti al croce fisso e mi ritrovo a piangere incredibilmente c'ero stupefatto di quello che mi stava accadendo perché mi ricordo pensai devo fare quale potrebbe essere un gesto di riverenza un gesto di in cui in cui ammetto la mia inferiorità qualcosa di molto più grande e ho messo semplicemente un ginocchio a terra e ho fatto così e ho cominciato a piangere e mi sono reso conto che stavo piangendo perché stavo chiedendo scusa alla vita a dio a cristo all'universo a non so cosa il fatto che non apprezzavo abbastanza quello che ero quello che ero stato e da lì ho chiamato francesco lui mi ha detto forse caso che cominci a fare qualche meditazione sul vangelo di marco se vuoi ti insegno io e da bella persona 6 perché così sai perché hai perché noi non sappiamo mai quale sia il momento nel quale ci rendiamo conto che finalmente possiamo fare pace con noi stessi perché c'è qualcuno che ci aiuto ci aiuta a fare questa pace e può anche venire da un gesto e pensate che il ragazzino che era andato ma vieni con tuo cugino a correre e lo stiamo sintetizzando ai signori perché sennò dovremmo fare notte per raccontarla tutta tu non annoi nessuno tantissimi ruoli in tv e al cinema tantissimi ruoli amati tantissimi ruoli difficili belli tutti belli ma race for glory audi versus lancia dal 14 marzo al cinema dico bene guardate queste immagini con noi e qui parla la tifosa e quindi guardate queste immagini che sono meravigliose ecco walter cesare questa no è una macchina competitiva sì una macchina incredibile motore centrale macchina leggera abbiamo usato materiali speciali quattro ruote motrici no 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 due rotomotrici quelli non li batti con un'auto normale sì invece se la vuoi di tu dammi un buon motivo per cui dovrei accettare perché siamo quelli sfavoriti ciao cesare cesare pensi di sfidarci senza le quattro ruote motrici è più buono col ghiaccio non credi? ecco bravo buttami il ghiaccio allora sinfori quando ti hanno proposto questo ruolo quanti minuti ci hai pensato prima di dire di sì? ma in realtà mi hanno proposto di fare il meccanico della lancia al braccio destro di fiorio che è scamarcio il giorno dopo io mi interessava fare questo film assolutamente però non sapevo che c'erano anche altri piloti cose che erano molto incentrato sulla guida il giorno dopo mordini mi chiama e mi dice vieni un attimo che parliamo di una cosa mi fa te la sente di fare Miccola che è il pilota finlandese dell'Audi e gli faccio ovvio e sì però ti vorrei chiedere un'altra cosa visto che tu facevi automobilismo te la sente di guidare così ho la possibilità di non usare controfigure, stuntman e io dico ma ragazzi ma sono le macchine originali dell'83 hanno 400 cavalli scusate stiamo parlando di macchine macchine meravigliose cose spettacolari nelle astronavi anche inguidabili quindi io dico forse è il caso io ti direi subito di sì ma forse è il caso che organizziamo una prova a Torino prima di cominciare le riprese mi affianca a uno stuntman bravissimo mi insegna a guidare le marce, le cose perché comunque la pista è molto diversa cioè una monoposta è molto diversa da una macchina a rete però alla fine quella roba lì mi risale e quindi decidiamo ok guido tutto io pensa che giro Gian Maria, che giro la tua bellissima vita e ti do una notizia siamo solo all'inizio bravo campione Gian Maria Martini grazie di essere stato con noi grazie davvero guarda un piacere un piacere è una conferma non ti avevo mai incontrato in vita mia ma tu sei un piacere ed una conferma applausi grandissimi e se tutto questo vi pare non inseguire i propri sogni è come i sogni che alla fine inseguono te perché questo è accaduto guardate queste immagini sono due soggetti pericolosi guardatevi bene sono nitro e glicerina sono pericolosissimi perché sono due persone meravigliose innamorate buone come il pane arrivano dall'Abruzzo dico bene Mario Di Peco e Cinzia Schiavone guardatevi marito e moglie genitori di Roberto 11 anni Aurora 7 dico bene e sono due dei 58 abruzzesi che hanno partecipato all'edizione la 52esima della più importante maratona del mondo signori la maratona di New York quella dove o hai fegato coraggio e polmoni oppure statene a casa che è meglio bene ben arrivati grazie di essere con noi posso partire da Mario allora Mario quando ha raggiunto quanti chilometri sono la maratona sono 42 42 chilometri 195 metri di cui già io a fare 195 metri per qualche problema di cura di 42 chilometri Mario è arrivato prima diciamo prima a livello temporale temporale a livello temporale arriva al traguardo e che cosa fa quest'uomo? grido cerco mia moglie e le dico ti amo Cinzia ti amo parocchi perché si chiama Cinzia e non si chiama Adriana ma che meraviglia quindi Cinzia lei nel caos mare magnum che è un formicaio che si è improvvisamente si è aperto impazzito e lei ha sentito questo ti amo sì da lontano ho sentito questa voce l'ho riconosciuta in mezzo a tutte le persone chi stava a terra chi stava in piedi insomma in tutta la situazione in questo marasma di persone vado verso avanti e trovo lui che mi abbraccia e mi prende e mi dice ti amo ma che già qui avremmo finito con l'intervista potremmo finirla qui ma siete meravigliosi ma che animo ma ma lei cosa ha pensato dice sì è mio marito lo so ma insomma è un gesto no? beh ho pensato in questo momento è arrivato è giusto che ci uniamo e che finalmente ci possiamo riunire sentire insieme questa felicità per aver raggiunto questo grande traguardio che è la maratona di New York dunque sono guardate però garantisco sono come lo zucchero filato che mangiavamo da piccoli uno se li prenderebbe così a morsi a bacioni a morsi allora ma voi perché fate le maratone scusate perché in tutto questo questo finale meraviglioso eccolo guardatelo lassù in alto a sinistra il primo capoverso con le braccia alzate che sta urlando ti amo a sua moglie perché fate le maratone voi ti fate i fatti tuoi no siete qui apposta per raccontarcelo certo sono faticose le maratone è una bellissima esperienza di vita ti insegna veramente tanto e ti cambia completamente la tua mentalità il tuo modo di vivere abbiamo inizialmente fatto le maratone perché abbiamo fatto un percorso di crescita personale il MECAP il Master Internazionale di Coaching ad Alte Prestazioni dove le maratone erano delle prove da poter superare per raggiungere poi la certificazione finale da Senior Result Coach perché in realtà tu correndo la maratona metti a durissima prova il tuo fisico però in quei 42 km e 195 metri pensi la tua mente a un certo punto ti dice basta non è possibile non puoi continuare a correre adesso fermati perché se no non va bene e quindi là la tua testa invece lavora su di te e continua a correre e poi raggiunge il traguardo quindi è fondamentale è sempre la testa che ti porta verso il traguardo è sempre la testa che ti guida quella ti fa fare cose che il fisico a un certo punto potrebbe anche dire ci fermiamo qui Mario adesso arriviamo anche al lavoro al dolore fisico che ti è amico nel momento in cui il dolore sta anche per fatica fisica voi avete detto tra le cose bellissime che avete detto in tante interviste noi abbiamo corso per i nostri figli cioè quando due genitori dimostrano oltre a quest'amore meraviglioso che è la prima cosa che anche l'impossibile si possa raggiungere no? è una bella lezione da dare anche due piccoletti così assolutamente sì quando però i polpacci ti dicono non te regge più per citare il grande Rino Gaetano cioè non ce la faccio più che si fa? lì se sei un attimo preparato mentalmente vai alla ricerca di quelle che sono le tue risorse interne chiedi aiuto a loro e loro in quel momento ti rispondono e ti accompagnano mi spiego meglio sì ho sentito nel momento proprio della della difficoltà quando arrivi intorno al 32esimo chilometro dove davvero le gambe ti cedono e io tra l'altro venivo da un paio di maratone che avevo già corso negli anni precedenti in una nella prima maratona ero caduto sette volte e mi sono realizzato otto volte quindi sono arrivato al traguardo dopo tanti dolori dopo tanti quindi arriva quel dolore che comunque sia riconosco e lì inizi a cercare quelle proprio quegli argomenti che ti aiutano a reagire e sicuramente uno degli argomenti erano i figli e l'altro era la moglie quindi sono proprio quelle cose che ti fanno battere il cuore le ottime argomentazioni per andare avanti assolutamente sì rappresentano la felicità nella mia vita quindi ma quanto è bello lei abbia pazienza ma insomma non lo so ma arriva urla ci sono due topi minuscoli guardateli eccoli qua ma corrono pure loro non ancora loro fanno tanto sport fanno tanta disciplina tante attività però no comunque non volevo non volevo interrompere questo momento bellissimo in realtà con una cosa altrettanto bella cioè pensare a ciò che ami di più e questo non ti toglie il dolore ai muscoli però ti controbilancia tecnicamente ti connetti con te stesso ti connetti con quelle che sono le cose davvero importanti nella tua vita e poi mentalmente in quella in quella situazione lì cerchi di di rimpicciolirlo il dolore cioè mentalmente fai un lavoro fai un lavoro di allontanarlo il più possibile inizi a pensare a qualcosa che ti muove verso un piacere piuttosto che che stare lì a soffrire cioè il non ce la posso fare viene piano 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 allontanato non ce la posso fare è per chi molla nel senso e quindi noi dobbiamo cioè io personalmente mi sono sfidato per non mollare vado a cercarmi con le situazioni per non mollare allora signore sono veri eh guardate ve lo possiamo garantire sono veri sono veri sono autentici Cinzia non si direbbe ma loro hanno corso anche Berlino 2021-2022 doppiamente importante perché parliamo di anni che seguono immediatamente la tragedia del covid quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando leggo dalla scaletta e pensare che prima di iniziare questo percorso Cinzia non era un atleta e trascorreva la sua parte gran parte del suo tempo libero sul divano e qua ho avuto un'illuminazione perché io io gatto di pietra sul divano datemi un libro lo leggerò lei non era un atleta assolutissimamente no e anche per fare un metro prendevo sempre la macchina quindi ci sono speranze anche per me per tutti eh sì perché avevo molte volte portavo i tacchi e quindi questa cosa era scomoda da camminare quindi prendevo sempre la macchina e quindi con Mario dicevo sempre per andare da qualsiasi parte prendiamo la macchina poi quando è arrivata la maratona e quindi ho iniziato a correre ho imparato che veramente puoi arrivare da tutte le parti con le tue dalle mi tolgo una curiosità lei è partita dalla maratona cioè l'hai passata dal divano alla maratona sì allora con delle tecniche ovviamente chiaro certo quindi sono stata seguita da un personal trainer che mi ha fatto delle tabelle mi ha aiutato e poi quindi da 100 metri 200 metri 300 metri 800 quindi si fa sempre avanti quindi da zero poi sono arrivata alla maratona quindi si fa tutto l'importante è la costanza e l'esercizio e il fatto di non mollare mai quindi tutte quelle volte che la mattina ti alzi e dici no adesso voglio stare sul divano non ce la faccio no la tua vocina dentro deve essere più forte e dire no adesso vado a correre perché dopo sarà bellissima la mia era rancedine da anni ma perché no devi ascoltare la vocina che dice andiamo a correre come vi allenate al mattino voi andate a correre tutti i giorni la maggior parte delle volte sì la maggior parte delle volte è importante perché la maratona ha un lungo percorso cioè quando si corre si arriva a fare 42 chilometri e passa è comunque sintoma di un percorso precedente di almeno 6 mesi dove tu ti alleni e fai chilometri e chilometri per abituare il tuo fisico a raggiungere quell'obiettivo e quindi come si fa a fare in modo che questi 6 mesi vanno in porto tutti i giorni appunto innanzitutto sono i valori la cosa più importante il valore la salute è la cosa più importante per me perché comunque mi permette di stare in linea con me stessa per me e per le persone che amo che sono i miei figli certo se sto bene stanno bene i miei figli sta bene il mio marito sta bene la signora Antonia che oggi compie gli anni ed è la mamma di Cinzia signora auguri auguri la mia mamma oggi fa 70 anni e quindi sono molto felice voglio fargli tanti auguri ti voglio tanto bene grazie per tutto ma che bella grazie grazie anzi di condividere con noi questo compleanno della mamma signora Antonia complimenti ha fatto un ottimo lavoro ovviamente anche il papà ci mancherebbe altro allora voi correte si allenano senza ascoltare la musica sì perché e su questo io sono perfettamente d'accordo dite camminare correre è un momento anche di riflessione con se stessi dove pensi quando corri no? sì perché ti permetti di connettere con te stessa mediti con te stessa e pensi tutte le tue cose la tua vita e ti permette almeno a me permette di capire nuove cose nuove inside che mi permettono poi di sbrogliare mitigare tutte quelle che sono le cose che succedono nella vita Mario voi oltre a ad avere obiettivi da portare a termine dice che devo fare allora devo fare la spesa poi voglio fare la lavatrice sto facendo la mia lista delle cose loro dopo Berlino e New York e Londra il prossimo mese dico bene vogliono correre Boston Chicago e Tokyo e qui siamo serissime adesso non è sempre un gioco io no loro sì ci mancherebbe qui sono davanti a due super professionisti voi date l'idea di essere persone felicissime felicissime serene rasserenanti anche gli altri questo è tutta parte del processo che avete messo in moto e che continuate a portare avanti assolutamente sì il fatto di seguire come diceva Cinzia i valori noi inseguiamo i nostri valori i valori non sono i valori del sangue ci tengo a dire non è colesterolo i valori della felicità i valori della salute sono importanti quindi fa parte tutto del progetto fa parte tutto del progetto rimangono con me sì che bello allora andiamo a vedere i volontari dell'associazione sportiva Inix Sport insieme perché alcuni ragazzi in carrozzina sognavano di partecipare alla maratona di Roma e continuiamo a parlare di quei sogni che ti rincorrono è successo questo guardate siamo in procinto di partire per la maratona di Roma è la nona volta che siamo presenti con i ragazzi in carrozzina sono carrozzine normali non sono carrozzine speciali e noi abbiamo realizzato degli appendici in modo artigianale che montiamo per permettere la realizzazione di questo sogno partiremo tra poco lei è emozionatissima vero mamma? io sono un'atleta inix che però ha scoperto la felicità e la gioia di poter fare anche questo tipo di gara che non è una gara con il tempo ma è una gara con il nostro cuore io diciamo ho dei problemi di mobilità alle gambe quindi non avrei mai potuto partecipare ad una maratona diciamo impegnativa mi affido completamente a questi ragazzi che hanno la forza il coraggio e l'entusiasmo di accompagnarci all'arrivo qualsiasi ragazzo spinto può partecipare all'evento le gambe le mettiamo noi della SD inix sport è un sogno che si realizza perché io per esempio da quando guardo la tv e guardo le discipline sportive sento sempre l'inno e avevo sempre il sogno di sentire l'inno però da atleta tra virgolette di sentire Se non sono momenti di gloria questi, no? Allora, Cinzia e Mario, la lezione da passare ai nostri amici che ci seguono, signora Antonia, sempre buon compleanno, io torno a ripeterlo, è il compleanno della mamma di Cinzia, qual è alla fine? Voi siete riusciti a coronare un sogno, non solo coronare un sogno, voi non vorrei dire li rincorrete i sogni perché pare brutto, ho detto per due maratoneti, però la lezione che dobbiamo apprendere dalla vostra storia qual è? Secondo me continuano a sfidarsi, continuano a sfidarsi per mettersi alla prova di continuo e non accontentarsi, nel senso la vita va avanti, ti aspetta, tu devi essere pronto per cogliere l'attimo o rispondere, saper reagire. Saper reagire, Cinzia? E non mollare mai, quindi ogni volta che cadi avrai la forza di rialzarti, andare avanti perché quella volta sarà quella giusta. Cadere sette volte e rialzarsi? Otto. E quindi la giusta volta per la felicità, quindi andare sempre avanti. Capite perché le ha urlato ti amo alla fine della maratona di New York. Grazie infinite di essere stati con noi. Grazie a voi. Portate baci a quei due bambini, mi raccomando. Signori, storie meravigliose. Ci fermiamo soltanto per un attimo e poi abbiamo bisogno, come sempre, di tutta la vostra attenzione. A tra poco, grazie. Grazie. Bravi. Grazie. Allora, magari nella pausa della pubblicità avete bevuto un bicchiere d'acqua. Lo spero, l'acqua fa così bene. Da questa mattina, oltre ad averla utilizzata per lavarci, abbiamo lavato anche i piatti, le tazzine della colazione. Magari abbiamo già fatto le pulizie domestiche. Magari abbiamo fatto anche una o due lavatrici, così ritenendola una cosa assolutamente normale. Nel mondo, una persona su quattro, una su quattro, non ha assolutamente accesso ad acqua pulita. Metà della popolazione mondiale non può contare su servizi igienico-sanitari che siano adeguati. Nel momento in cui scoppia una guerra, e noi siamo accerchiati dalle guerre in questo momento, l'acqua diventa un bene essenziale, primario, e l'acqua diventa un bene che non si trova. Allora, ci sono persone che lottano per tutto questo. Noi possiamo fare moltissimo per essere di sostegno. Ecco perché vi chiedo particolare attenzione. Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia. Bentornato, grazie di essere con noi. Riccardo Sansone, responsabile dei programmi estero di Oxfam Italia. Grazie infinite. E ritrovo un'amica, una donna generosa, una donna che sa sempre quando mettere il proprio volto, che è Ilaria D'Amico, collegata con noi. Grazie Ilaria, ambasciatrice testimonial. Ciao Paola, grazie. Feliciti di rivederti. Ciao Roberto, ciao Riccardo. Grazie a te di essere con noi. Allora, Roberto Barbieri, dona acqua, salva una vita. Fino al 9 aprile, facendo quel numero, 4-5-5-9-3. Che cosa possiamo fare? Possiamo aiutare a portare l'acqua nelle emergenze, perché come hai detto tu, l'acqua significa fonte di sostentamento, significa prevenzione delle malattie, significa anche, soprattutto nell'emergenza, aiutare le donne che hanno i carichi di cura maggiori a fare molta meno fatica per avere a disposizione quello che è assolutamente un bene primario. Noi ad oggi abbiamo una campagna aperta che ci aiuta a fare questa attività, cioè a portare l'acqua dove serve, nelle situazioni di crisi, soprattutto in Etiopia, in Siria, in Palestina. Noi di Oxfam siamo un po' i dottori dell'acqua, siamo quelli che intervengono dove portare l'acqua significa anche prevenire delle malattie. 45593 è il modo per aiutarci. È un gesto molto semplice, perché questa è una bustina, 10 di queste bustine costano 2 euro, e quindi è la donazione anche minima, e sostengono l'approvvigionamento di acqua potabile ad una famiglia di 3 persone per una settimana in situazione di emergenza. Quindi praticamente il costo di una bottiglietta, supponiamo da un litro d'acqua, di che noi possiamo prendere, o due bottigliette che possiamo prendere perché abbiamo sete, aiutano una settimana per una settimana di acqua potabile. Assolutamente, e quindi 15 litri di acqua al giorno, che è veramente il minimo indispensabile in situazione di emergenza, e questo è il nostro lavoro quotidiano. Allora, siccome il pubblico dell'Ora Solare è un pubblico stupendo, così ce lo diciamo tutte le volte, 2 euro, chiamando il 45593, potete digitare sul vostro cellulare, oppure, ecco qui lo vedete, mandare un sms, oppure chiamando con una telefonata al 45593, potete donare 5 o 10 euro. Ilaria, da quanto tempo sei ambasciatrice Oxfam? Tu sei una giornalista, conduttrice televisiva, sei una mamma, sei una gran bella persona. E questo ruolo di ambasciatrice da quanto tempo hai scelto di rivestirlo? Oddio Roberto, aiutami, perché io ormai ho perso il conto, nel senso che non ero ancora mamma quando ci siamo incontrati a Oxfam e Dio, la concretezza dei progetti, la capacità di scegliere come arrivare direttamente nelle emergenze e alle persone è stata la cosa che mi ha subito conquistata, convinta, la bellezza delle persone che lavorano per Oxfam Italia, scusate, questo è l'amichetto di mio figlio che è arrivato, ho staccato tutto il citofono, non l'avevo. Meravigliosa, meravigliosa, sei stupenda, va bene, questa è tutto in diretta, no? Citofono in diretta. Quindi diciamo, non è solo il tempo, Ilaria, e la tua volontà, ma è giustamente capire come il proprio ruolo debba essere quello di persona che convinca gli altri che questa è una campagna giusta, che è giusto sostenere. Le campagne sono giuste nel momento in cui guardano le emergenze per quello che sono. Oxfam è partita da una filosofia, quella per esempio di essere accanto alle donne per aiutare le donne nei loro paesi a crearsi una loro economia, dopodiché le emergenze si sono moltiplicate, giuro che questa è l'ultima città, però è che ci sono due portoni, poi basta, non sentirete più l'umore, le emergenze si sono moltiplicate e a quel punto ci si è specializzati negli ultimi anni, nelle ultime campagne per riuscire a portare acqua. L'acqua, l'hai detto tu in apertura, laddove una persona su quattro nel mondo non ha accesso all'acqua pulita. La bustina che tu hai visto produce circa 20 litri di acqua pulita al giorno, cioè depura 20 litri di acqua. Due euro vuol dire dieci di queste bustine. Fate voi il conto con una semplice donazione che cosa significa. Stiamo parlando di paesi dove manca tutto, sentiamo costantemente parlare della striscia di Gaza. a Gaza ci sono un milione e mezzo di sfollati soltanto a Rafa al confine con l'Egitto dove Oxfam con i suoi partner è presente e dove si cerca di portare tutto, coperte, pasticalti e soprattutto acqua dove si sono attivati dei salinizzatori. Ora non voglio dire tutto io perché meglio di me lo sanno ovviamente Roberto e Riccardo. Però questo per farvi capire di come le campagne devono essere concrete, devono far arrivare alla gente le cose elementari per le quali possono ammalarsi e morire senza le quali possono ammalarsi e morire. Allora l'amichetto del figlio di Ilaria che ora arriva a casa a un certo punto prenderà un bicchiere d'acqua perché è una cosa più che normale. Riccardo Sansone, Ilaria arriviamo subito da te. L'emergenza di Gaza intanto lei ha una storia di un passaporto con non oso contare quanti timbri no? Perché il vostro lavoro è girare il mondo è un altro tipo di mappamondo il vostro dove tutto parla di emergenza. A Gaza c'è una situazione terribile, terribile. Quando le è capitato di pensare siamo riusciti a fare questa cosa, ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, perché è questo poi che voi rincorrete, anche questa campagna vuole farvi arrivare a... poi per carità è sempre una pagina e poi si volta pagina e si ricomincia subito, però ci si riesce anche a segnare il gol, no? Assolutamente sì, devo dire che ci sono dei momenti in cui la disperazione e l'impotenza ti attanagliano, perché effettivamente ti trovi di fronte a delle situazioni di emergenza veramente grandi, molto grandi, se guardiamo la crisi di Gaza attualmente, io quando ho iniziato a fare questo lavoro era il 1998 e la prima missione l'ho fatta proprio a Gaza e sono passati quasi 26 anni, devo dire che questo tipo di emergenza che stiamo vedendo oggi io non l'ho mai vissuta in tutte le crisi che ci sono state in quella terra. In così tanti anni. I numeri sono pazzeschi, si parla di oltre 33 mila morti, ci sono più di 73 mila, 74 mila feriti, una devastazione totale come si vede anche dalle immagini che sono scorse. Le immagini parlano da sole. Ci sono, come diceva Ilaria, circa un milione e mezzo di persone che sono state sfollate nella parte sud della striscia di Gaza che comunque è una striscia di terra piccolissima perché sono 365 chilometri quadrati. Prima di entrare qui si commentava il Comune di Roma ha un'estensione superficiale il quattro volte tanto la striscia di Gaza e quindi di questo stiamo parlando e lì complessivamente vivono 2 milioni e 300 mila persone di cui un milione e mezzo sono a sud della striscia di Gaza. Operare in questa situazione è molto complicato perché ci sono siamo arrivati quasi a sei mesi di guerra con bombardamenti tutti i giorni e con una difficoltà di assistere ovviamente tutte le persone che sono in stato di bisogno. Allora... Prima della guerra ricordiamo che già la popolazione per l'80% della striscia di Gaza viveva con aiuti aiuti umanitari in questa situazione i bisogni sono decuplicati in maniera esponenziale e quindi a maggior legge c'è ancora più bisogno di fare. Allora, mentre voi che ci state seguendo prendete il vostro bravo cellulare e mandate un sms insomma noi vi ridiamo il numero 45593 guardate ascoltate con noi queste parole sono le parole di uno sfollato poi quando succedono questi disastri quando parte una guerra gli sfollati sembrano una categoria non sono una categoria sono persone come noi che hanno perso tutto ascoltate e non ci sono Il tuo appello per chiamare il 45593 per donare 2, 5, 10 euro per il diritto all'acqua pulita? L'acqua pulita è facile da spiegare e la missione di Oxfam Italia è proprio quella di portare l'acqua laddove non c'è niente significa quindi salvare da malattie che in quella situazione, in quelle fragilità significa morire, ammalarsi e morire. In particolare abbiamo parlato della striscia di Gaza ma anche i 13 anni di allucinante guerra in Siria e anche in Etiopia. È molto facile donare per veder depurare l'acqua e dare accesso all'acqua pulita a queste popolazioni che sono devastate. Davvero, fatelo. 45593 SMS per donare 2 euro, altrimenti se avete un telefono fisso a casa potete donare 5 o 10 euro il che significa riuscire a donare un kit di emergenza, cioè di igiene sanitaria e quindi aiutare più famiglie ad arrivare a finire la settimana con l'acqua depurata. Sono piccole cifre, sono enormi aiuti per sostenere chi in questo momento è disperato e ha bisogno di tutto. Bambini, neonati, donne, uomini ci sono feriti, oltre che ovviamente là. E ci sono 70 ospedali a Gaza, per esempio parlando di Gaza, che sono in questo momento impossibilitati o ad operare completamente o ad operare al 100%. Quindi la situazione è drammatica. È super drammatica. Davvero, aiutiamoli. Ilaria D'Amico, io ti mando un bacio via Skype. Grazie infinite di essere stata con noi, ambasciatrice. Grazie a te, Paola, per questo spazio. Davvero, grazie. Ambasciatrice Oxfam. Posso ringraziare Ilaria, che penso che sia 10 anni che steggiamo questo cammino insieme. Per noi sei la prima volontaria, per cui grazie di cuore Ilaria. Eh ma, conoscerla e volerle bene. Riccardo Sansone, Arrafà, voi avete avviato 11 impianti, l'abbiamo appena visto, di desalinizzazione a energia solare, quindi il massimo del massimo, cioè sfruttare la luce del sole, che lì c'è, ce n'è tanto, appunto, prova a stare sotto al sole quando manca l'acqua, ma anche quando è inverno, voglio dire, e aiutare, aiutare, aiutare. 11 impianti sono tanti. 11 impianti sono tanti. Prima mi chiedevi se c'è, cos'è che può, quando è il momento in cui pensi a finalmente... Ci sono riuscito. Ci sono riuscito. Questo è uno di quei momenti, dove effettivamente siamo riusciti a installare questi impianti di desalinizzazione, quindi significa trasformare in acqua potabile acqua salata e significa farlo attraverso anche l'energia solare. Questo è possibile grazie proprio alle donazioni che noi riceviamo e l'obiettivo, ora siamo riusciti a portare acqua potabile per 25 mila persone, l'obiettivo che vorremmo raggiungere è quello di arrivare a fare almeno 5, 6 volte di più, almeno 80 mila persone. Ma perché l'appetito vi è mangiando, è il caso di dire, soprattutto quando fai del bene. Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, lo ricordiamo, oltre a questo appello, dona acqua, salva una vita, 4, 5, 5, 9, 3, Etiopia, Siria. Voi non dimenticate nessuno. Noi non dimentichiamo nessuno, è fondamentale questa campagna perché ci sono le crisi dimenticate. Esatto. In Etiopia quello che succede è che ci sono delle multicrisi, cioè il cambiamento climatico, il terremoto, il cambiamento climatico nel caso dell'Etiopia, il terremoto nel caso della Siria, che si aggiungono ad una situazione spesso terribile di guerra, che non sempre sono sotto i riflettori. Oggi, negli ultimi anni, diciamo, in tutto il corno d'Africa e quindi anche in Etiopia, c'è una siccità che dura da 5 anni, con dei periodi molto prolungati, a cui susseguono delle inondazioni. E cosa succede? Che tutto questo impoverisce il terreno, fa sì che i raccolti siano meno fruttuosi, ci siano delle perdite dei capi di Mestiame e quindi la trappola della fame. Sa, Barbieri, ci vorrebbe l'assenza di chilometro zero. Noi dovremmo per un giorno andare a vedere, con gli occhi vostri che lo fate, andare a vedere il disastro che c'è. Assolutamente. Perché i disastri non sono quelli che capitano a noi, i disastri sono globali, mondiali. E Oxfam, che lancia anche un appello per il cessato il fuoco, perché finché durano le guerre... Finché durano le guerre non si potrà mai avere, diciamo, uno sviluppo duraturo. E quindi quel riuscire a farcela, di cui parlava Di Riccardo, sarà impossibile. Noi ce la mettiamo tutta, perché anche nelle guerre la cosa importante è riuscire, oltre a intervenire nell'emergenza, soprattutto nel caso di guerre che sono lunghe, che durano anni, riuscire a investire e a fare quelle attività che riportano la quotidianità. Quindi l'acqua per noi non è solo nei campi profughi, ma anche ricostruire le tubature, le infrastrutture idriche che servono per gli ospitali, servono per le strutture sanitarie. Significa riportare la vita anche laddove ci sono delle situazioni di conflitto protratto. Siccome il nostro pubblico, io ho parlato del pubblico dell'Ora Solare, ma il pubblico di TV2000 ha veramente un cuore speciale. Noi lo sappiamo che voi siete pronti a fare qualcosa per gli altri. Molti di voi, molte signore, si ricorderanno che quando va via l'acqua bisogna riempire la vasca. Quando si spacca la tubatura dell'acqua, che disastro! L'acqua andrà via dal condominio per 24 ore. Proviamo ad immaginare che l'acqua non ce l'ha. Non ce l'ha, non può neanche dire ossete, perché non arriva più a dire ossete, perché sta morendo di sete per colpa di una guerra, ma anche per colpa di gente che si volta dall'altra parte. Questa gente non siete voi. 45593 Oxfam Italia. Mi raccomando, mettete mano al vostro telefono. Grazie a tutti. Grazie direttore. Grazie. 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 Grazie.